In questo periodo in cui le restrizioni covid non permettono ai viaggiatori di acquistare a bordo i biglietti dall'autista, STPS ha deciso di attivare un servizio di vendita online dei titoli di viaggio di corsa semplice che si aggiunge alle biglietterie presenti sul territorio. Basta scaricare sullo smartphone l'app MyCicero, la stessa utilizzabile anche per il pagamento della sosta a Sondrio. Il biglietto una volta acquistato verrà materializzato sullo smartphone e dovrà essere poi attivato dal cliente al momento dell'utilizzo del servizio di trasporto. Con la vendita online STPS intende offrire un'opportunità in più alla clientela e al tempo stesso sollecitarla al rispetto di una delle regole cardine del trasporto pubblico e più in generale del vivere civile, ovvero il possesso di un regolare documento di viaggio, acquistabile anche in rete in qualsiasi luogo e momento, evitando sanzioni al momento dei controlli. Un passo importante verso la modernizzazione dei servizi da parte della società trasporti pubblici della provincia di Sondrio, che vanta una flotta di autobus costantemente rinnovata con un'anzianità media inferiore ai sei anni e mezzo, una vera eccellenza nel panorama nazionale.